Buongiorno a tutti e bentrovati. Ci rivediamo dopo che il 18 maggio abbiamo trattato un argomento di carattere teorico pratico, mi riferisco a quella che è stata la sperimentazione della provincia di Ancona per quello che riguardava appunto il coordinamento tra il sistema di performance management e il sistema anticorruzione. Quando la dottoressa Schifano mi ha interpellato per appurare la mia disponibilità a svolgere un'ulteriore relazione in questo interessantissimo progetto che si indirizza principalmente per le amministrazioni del Sud, ho avuto un po' di imbarazzo nell'individuare il tema e alla fine ho proposto e la dottoressa Schifano l'ha accettato un tema di carattere teorico che alla fine mi ha preso e mi ha portato ad approfondire una serie di argomenti tutti connessi al tema principale, quello di conoscere la corruzione. Questo è un progetto che riguarda gli interventi per la prevenzione della corruzione e come si dice conoscere per curare e quindi la mia analisi sarà un'analisi che tratterà il tema della corruzione dagli aspetti da un punto di vista storico, sociologico e giuridico anche in relazione a quella che è stata la mia formazione accademica avendo io studiato sia sociologia che diciamo giurisprudenza. Per quello che riguarda il tema di oggi la prima cosa che ci dobbiamo porre sono alcune domande. Perché è stata emanata la legge 190 sull'anticorruzione? Non era sufficiente l'articolo 331 del codice di procedura penale? Non era sufficiente l'articolo 361 del codice penale? Ricordo che in un convegno un sostituto procuratore disse ma sarebbe bastato scrivere davanti a tutte le pubbliche amministrazioni, agli immobili, alle sedi di repubblica amministrazione il settimo comandamento non rubare. Se andiamo ad analizzare infatti questi articoli il 331 del codice di procedura penale fa obbligo ai pubblici ufficiali o agli incaricati e agli incaricati di pubblico servizio di denunciare per iscritto senza ritardo all'autorità giudiziaria i reati perseguibili di ufficio di cui hanno notizia nel corso della propria attività. Tanto è vero che il 361 del codice penale sanziona l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Ma chi è il pubblico ufficiale? Il pubblico ufficiale è definito dall'articolo 357 del codice penale e pubblico ufficiale è colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e relativamente alla funzione amministrativa il 357 del codice penale individua come pubblica quella funzione che viene disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e che si svolge per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. L'incaricato di pubblico servizio è colui che svolge la funzione amministrativa ma senza quei poteri tipici di quest'ultima. Per quello che riguarda il codice penale noi sappiamo che la legge 190 ha operato un restyling di alcune norme del codice penale, quelle relative agli argomenti e ai reati che sono oggetto di questa relazione. Il reato più grave previsto dal codice penale è il reato di concussione e si concretizza quando il pubblico ufficiale abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui un terzo denaro o altra utilità ed è punito infatti come reato tra i più gravi da 6 a 12 anni. La corruzione, anch'essa è stata rivista dalla 190, sostanzialmente si articola in due previsioni. La corruzione impropria e cioè quando il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri indebitamente riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Siamo nell'ambito di un'azione connessa all'esercizio delle funzioni e per questo è definita corruzione impropria. La corruzione propria invece si ha quando il pubblico ufficiale in relazione appunto a una dazione di denaro, a una promessa di una qualsivoglia utilità omette o ritarda un atto dovuto proprio del proprio ufficio. Ovviamente queste norme si applicano anche agli incaricati di pubblico servizio, ma quali sono da un punto di vista analitico le differenze che intercorrono tra corruzione e concussione? La concussione è un reato unilaterale, sostanzialmente è una estorsione che il pubblico funzionario dall'alto del suo potere esercita sul privato cittadino, c'è proprio un abuso della qualità e dei poteri con cui appunto il pubblico funzionario costringe o induce taluno a dare o a promettere. Nella corruzione invece il reato si concretizza quando il pubblico ufficiale sulla base di una promessa o di una dazione di un denaro o altra utilità compie o non compie un atto del suo ufficio ricevendo per sé o per un terzo denaro o altra utilità. Quindi la differenza sostanziale qual è? È che nella concussione le parti non sono su un piano di parità, nel senso che il pubblico ufficiale si trova in una posizione di superiorità, il cittadino invece in una posizione di sudditanza ed è in un certo senso indotto per timore di subire un danno. Nella corruzione invece pubblico ufficiale corrotto e privato corruttore si trovano sullo stesso piano di parità e quindi siamo di fronte a un sinallagma, a un cosiddetto patto scellerato. La legge 190 ha rivisto anche nell'ambito del codice civile la corruzione tra privati all'articolo 2635, prevedendo espressamente che le figure di vertice delle società, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti, i liquidatori, qualora in pratica pongano in essere il comportamento tipico della corruzione, sono puniti ove da questo comportamento cagionino un documento alla società a cui appartengono. Sempre la 190 ha previsto al 346 bis una nuova fattispecie di reato che come diremo successivamente va sostanzialmente a circoscrivere un nuovo comportamento nell'ambito del procedimento corruttivo, quello del soggetto che influenza le parti, fa da intermediario tra il corruttore e il corrotto, per cui viene sanzionato il prezzo della propria mediazione illecita che il mediatore pone in essere influenzando il pubblico ufficiale che viene corrotto. Quali sono i presupposti costituzionali della anticorruzione? La norma cardine, la norma fondamentale è contenuta nell'articolo 54 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le costituzioni e le leggi. L'articolo 54 sancisce il principio di fedeltà alla Repubblica per cui ribadisce al secondo comma che i cittadini cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di ademberle con disciplina ed onore. Questo è il principio cardine, ma ci sono anche altri principi che non sono secondari ma possono essere ricondotti alla fonte giuridica primaria dell'anticorruzione. Innanzitutto l'articolo 67, il divieto di mandato imperativo che vincola tutte le persone, i soggetti che vengono chiamati a svolgere una funzione pubblica. Poi gli articoli 97 e 98, il 97 che sancisce i principi espliciti del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, ovviamente con il principio implicito della legalità e il principio 98 relativo all'immedesimazione organica del pubblico funzionario che deve agire e operare al servizio esclusivo della nazione. La legge 190 che nella sua dizione è intitolata disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, mi permetto di dire che forse avrebbe dovuto avere una diversa nomenclatura, nel senso che il termine illegalità avrebbe dovuto precedere il termine corruzione. Secondo me sarebbe stato più opportuno che il legislatore avesse intitolato questa legge con il titolo disposizione di prevenzione e repressione della illegalità e della corruzione, proprio perché la illegalità è l'anticamera della corruzione e la legge 190 che è una legge amministrativa mira proprio a perseguire e a contrastare il fenomeno della illegalità. Ma qual è la corruzione che la legge 190 cerca di osteggiare, visto che la stessa legge, come ho detto nell'altro webinar del 18 maggio, come è avvenuto con il decreto Brunetta, dimentica di definire la corruzione così come il decreto Brunetta aveva dimenticato di definire la performance. Allora vediamo qual è la corruzione che è perseguita dalla legge 190, la corruzione che la 190 persegue è la cosiddetta maladministration, la cosiddetta corruzione amministrativa. Queste definizioni noi non le troviamo, abbiamo detto nella legge, ma le troviamo in fondi secondarie, nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica numero 1 del 25 gennaio 2013, nel rapporto della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, nel PNA approvato con la deliberazione dell'allora Civit numero 72 del 2013 e da ultimo nella recentissima determinazione numero 12 del 2015 del presidell'ANAC relativamente all'aggiornamento del PNA per il 2015. Le denominazioni della corruzione osteggiata dalla 190 variano da una strumentalizzazione dell'azione amministrativa a corruzione amministrativa, a maladministration, ad abuso del potere al fine di ottenere vantaggi privati, a uso a fini privati o anche pubblici delle funzioni attribuite, all'inquinamento ab externo dell'azione amministrativa, anche se non ha successo. Come vedete quindi tutte queste fattispecie possono farsi rientrare in un'accezione più ampia della fattispecie penalistica, proprio perché la legge anticorruzione, come abbiamo avuto modo di dire, sostanzialmente cerca anche di colmare quelle zone grigie lasciate aperte dalla riforma della legge 234 del 1997 sulla riforma dell'articolo 323 sull'abuso d'ufficio. Infatti se noi prendiamo la definizione della circolare numero 1 del Dipartimento Funzione Pubblica leggiamo proprio che la legge non contiene una definizione della corruzione che viene quindi data per presupposta e fa riferimento a fattispecie più ampia della fattispecie penalistica, tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione. Questo concerto del Dipartimento della Funzione Pubblica noi poi l'abbiamo ritrovato oltre che nel rapporto della Commissione sullo studio della trasparenza dei fenomeni e della prevenzione della corruzione è anche nel PNA. L'ANAC nella recente determinazione numero 12 del 2020 relativa all'aggiornamento al 2015 del Piano Nazionale di Corruzione si sofferma proprio sul concetto di maladministration e in termini diversi in pratica fa riferimento a quelle decisioni che deviano dalla cura dell'interesse generale e asservano l'interesse generale a interessi particolari. Ma ci sono anche altre definizioni come per esempio l'abuso di una carica pubblica per ottenere vantaggi a livello personale, è una definizione di una economista Ackerman, è l'abuso del potere affidato dai cittadini per l'ottenimento di vantaggi privati, è una definizione di Transparency International, cui accenderemo nel corso di questa relazione, è un reato basato sul calcolo, non sulla passione. Le persone tendono a corrompere o a essere corrotte quando i rischi sono bassi, le multe e le punizioni sono minime e le ricompenze sono grandi. Questa è un'affermazione di Robert Klitgård che è uno dei maggiori esperti di corruzione. Uno Stato nel quale prevale un sistema politico incontrollabilmente corrotto viene definito cleptocrazia e cioè governo dei ladri. Andiamo un po' nel merito di quello che sarà poi l'argomento di questa relazione, l'analisi dei presupposti storici, sociologici e giuridici del fenomeno corruttivo. Faremo, per usare una metafora, un viaggio in questo fenomeno corruttivo per cercare di capire effettivamente come nasce, che cos'è la corruzione, quali sono gli effetti sul sistema, in particolare sul sistema italiano. Mi piace riportare un'affermazione perché facciamo un'analisi storica. C'è un'affermazione che ho trovato su un testo, la storia che cos'è? È la disciplina che studia il passato e per fare ciò deve anzitutto stabilire la relazione del passato e il presente. La storia che cos'è? È un racconto del passato che noi costruiamo a partire dall'oggi. Orovesciando i termini, nella storia contemporanea noi vediamo quel passato in cui affondano le radici immediate del nostro presente. Quindi come a dire, se vogliamo conoscere la corruzione di oggi, dobbiamo cercare di capire che cos'era la corruzione diciamo ieri. Faremo anche l'analisi sociologica e giuridica e ovviamente per i non detti ai lavori occorre dire che cos'è la sociologia. La sociologia è una scienza che studia i fenomeni sociali in ogni loro esternazione, devono essere però fenomeni riscontrabili, fenomeni osservabili, fenomeni che possono essere analizzati per poter essere compresi nelle cause e negli effetti. Quando invece parliamo del diritto parliamo ovviamente di quei principi codificati che una società si dà per regolare la convivenza dei propri consociati nell'ottica di una pacifica come dire vita sociale. Il tema che affronteremo oggi avrà anche riferimenti alla psicologia sociale. Che cos'è la psicologia sociale? La psicologia sociale è una scienza recentissima, risale agli anni 50, che studia il comportamento dell'individuo nella società secondo il principio dell'influenza sociale. Quindi mentre la sociologia e tutte le scienze gemelle, l'antropologia, l'economia, le scienze politiche studiano il comportamento di vasti raggruppamenti umani, la psicologia sociale concentra la sua attenzione sull'individuo però nel contesto in cui opera diversamente dalla psicologia che studia l'individuo astratto dal contesto. Per quanto concerne appunto la psicologia sociale bisogna dire che nella psicologia il soggetto non viene estrapolato dal contesto ma viene studiato nei suoi processi conoscitivi nell'ambito del contesto in cui vive. Kurt Lewin, che è stato uno dei fondatori della psicologia sociale, nel 51 aveva elaborato questa formula euristica perché gli psicologi vanno secondo la euristica, cioè una teoria, un'ipotesi deve essere sperimentata mediante un progressivo avvicendamento di sperimentazioni per poterne trovare il fondamento nella sperimentazione. Che diceva Kurt Lewin? Che il comportamento è una funzione dell'interazione tra la persona e l'ambiente e sociale sta ad indicare proprio il ponte tra la psicologia e la sociologia. dobbiamo ragionare proprio secondo questi parametri per poter capire l'ambiente che ci circonda e in che misura l'ambiente ci può influenzare nei nostri comportamenti. La psicologia sociale ha vari paradigmi che si concentrano tutti sul discorso del comportamento come conseguenza di un rapporto tra stimolo e ricerca, come studio del gruppo sociale, la cosiddetta teoria del campo, come studio sulla pressione del gruppo, non so se voi avete mai fatto caso, se vi trovate in un gruppo composto da 4-5 soggetti e la maggioranza, 4 alzano la testa al cielo e il quinto alza la testa al cielo, che significa questo? Che il gruppo esercita una influenza sull'individuo e l'individuo per essere accettato dal gruppo può in essere dei procedimenti conoscitivi, tipo per esempio l'imitazione, la moda è un tipico esempio, ovvero anche l'integrazione nel gruppo mediante un processo anche di finalizzato ad essere accettato. Il consumismo è proprio un fenomeno di conformismo. Ma per poter capire un fenomeno occorre sempre partire dall'etimologia del termine. Personalmente ho cercato di analizzare il termine di corruzione per cercare di capire etimologicamente il significato. Ho trovato tre significati. Il primo significato è questo, corruzione deriva da rompere, termine latino, con, cioè rompere qualcosa in compagnia. Se non ci sono, se non c'è più di un soggetto, non siamo di fronte alla corruzione. Quindi con la corruzione che cosa si rompe? Si rompe una legge, si rompe una regola etica, si rompe un accordo tra privati, quindi più rompere in compagnia. Ma corruzione anche deriva da corruzione, da corruptus, cuore rotto, il cuore lesionato. Quando si ha questa ferita al cuore che poi è metaforica sostanzialmente. Quando si apre psicologicamente un conflitto tra il mondo interiore dei valori e il comportamento esterno. E quando si apre questo conflitto? Questo conflitto si apre quando ci sono motivazioni come l'avidità e il desiderio di ricchezza e di potere, la possibilità di guadagno facile, il rischio limitato, la pena esigua. Qual è l'antidodo alla corruptus? L'antidodo è l'integrità che caratterizza e plasma e permea la legge 190. Una terza etimologia etimologia si può trovare nel termine crepa, dal latino crepa significa crepare, squarciare, lacerare. La crepa è un fenomeno che non provoca l'uomo, è un fenomeno naturale che in pratica è una lesione di un corpo duro che solo l'uomo può ricucire, non si ricuce naturalmente. E in pratica la crepa fa riferimento al corruptus a cui parlavamo prima, ma la crepa nell'ottica dello studio che stiamo facendo è la crepa dell'integrità. E quando si rompe l'integrità? E quando la domanda è si rompe l'integrità? L'integrità si rompe quando c'è una rottura rispetto al comportamento in base al ruolo ricoperto, il ruolo di genitore, il ruolo di marito, il ruolo di segretario, il ruolo di sindaco. Quando c'è una rottura di questo comportamento che il ruolo impone, in questo momento, in quel caso c'è una crepa. La crepa c'è quando c'è un cedimento alla bramosia del potere e del denaro. Il tradimento è una crepa perché si rompe un rapporto di fiducia. Il rinnegare l'ideale in cui si è creduto è una crepa e la rottura si ha sia nell'ambito pubblico che nell'ambito privato e ritorno a dire che l'integrità è l'antitodo alla crepa, alla lesione e alla rottura. Se noi facciamo un'analisi storica vediamo che la corruzione è un fenomeno antico come il mondo essa è innanzitutto, come abbiamo detto, la conseguenza dell'avidità e dell'ambizione del potere e la storia ha dimostrato che la corruzione è legata a grandi personaggi del passato che al di là dei loro pregi purtroppo sono caduti o sono stati tentati dalla bramosia del denaro. Ma vi chiedo e mi chiedo qual è il primo episodio di corruzione nella storia dell'uomo, teniamo presente che questo secondo me il primo episodio di corruzione è dato dal peccato originale. Vi racconto un aneddoto, quando io frequentavo il master in amministrazione di governo del territorio in Lewis, il mercoledì facevamo degli incontri culturali, cosiddetto caminetto, in cui noi avevamo l'opportunità di confrontarci con dei docenti o con degli autori che presentavano i loro libri e mi ricordo che in quella occasione fu ospite un professore di etica, un sacerdote e io proprio facendo riferimento a quello che vi sto per dire, dissi che il primo caso di corruzione era il peccato originale, ma fui contestato da un docente il quale disse che non è un caso di corruzione perché non c'è nel caso del peccato originale la motivazione, qual è la motivazione? Questa relazione mi ha dato la possibilità e l'opportunità di approfondire questa motivazione che sono riuscito a trovare. Infatti se noi leggiamo la Genesi, si può credere o non si può credere, la Genesi parla appunto che l'uomo fu creato dal creatore a sua immagine e somiglianza. Aveva tutto nell'Eden, però doveva sottostare una regola, quella di non mangiare il frutto proibito dall'albero della conoscenza. Quando Adamo e Eva mangiano il frutto proibito, automaticamente si accorgono di essere nudi, si vergognano della loro nudità e si nascondono e allora il creatore fa poche domande e dice dove sei Adamo? Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Poi dice hai mangiato il frutto dell'albero del quale ti avevo proibito di mangiare e Adamo ovviamente dice ma guarda io non ho colpa, è stata Eva che mi ha corrotto, mi ha condizionato. Eva dal canto suo si giustiva e dice no, io non c'entro niente, è stato il serpente. Guardate troviamo già tre elementi, tre soggetti nel concetto del corrompere com, quindi mi chiedo ma chi è il corruttore, chi è il corrotto nel peccato originale? Secondo l'interpretazione classica, e qui c'è questo bellissimo quadro di un vittore fiammingo che ritrae proprio il peccato originale, in pratica nella interpretazione classica del racconto biblico, quello che abbiamo studiato da ragazzini al catechismo, il corruttore è il serpente che tenta e corrompe Eva, Eva è la corrotta ma è anche la corruttrice che corrompe Adamo, il povero Adamo è il corrotto e di questo noi uomini, adesso faccio una battuta, siamo andati sempre fieri, noi siamo stati vittime sostanzialmente della nostra costola. Ma se andiamo ad analizzare anche la pittura del 400-500, noi vediamo da quest'analisi, per esempio, in questo quadro di Masolino da Panicale, l'aspetto angelico, la insensibilità dei due personaggi prima del peccato originale, non provavano nessun sentimento perché avevano tutto, però dopo che commettono il peccato originale, in quest'opera di Massaccio che è conservata a Firenze nella chiesa di Santa Maria del Carmi, dove è conservata l'opera di Masolino, noi vediamo la cacciata dell'Eden e qui cominciamo a vedere i sentimenti, i sentimenti sono sentimenti di vergogna, Eva viene descritta con un corpo da anziana, però nonostante tutto si copre le parti intime e il suo viso, se voi vedete, sembra un teschio perché c'è proprio la vergogna, anche Adamo si nasconde, ma quello che è, voglio dire, più interessante è l'opera di Michelangelo Buonarroti che è conservata nella Cappella Cistina. Michelangelo Buonarroti, e qui richiamo la vostra attenzione perché è un'analisi anche questa storica che ci fa capire del fenomeno della corruzione. Michelangelo Buonarroti in pratica in un quadro rappresenta le due situazioni, il peccato originale e la cacciata dall'Eden, ma guardate, nella parte di sinistra relativa al peccato originale, Michelangelo si discosta da quello che è scritto nella Genesi, in quanto qui vediamo che il serpente dona a Eva che è di spalle al serpente, non colloquia col serpente, il frutto proibito che secondo la tradizione ebraica non è la mela ma è il figo, tant'è vero che Adamo ed Eva si copriranno di foglie di figo. Ma guardate che non è Eva che corrompe Adamo, perché l'iniziativa di prendere il frutto proibito è un'iniziativa che Adamo autonomamente prende, si alza in una posizione quasi di instabilità e raccoglie il frutto proibito. Nell'altra parte noi vediamo invece la cacciata dall'Eden, qui non c'è la vergogna, qui c'è la paura, nel senso che l'angelo della giustizia con la spada arriva quasi a ferire diciamo il collo di Adamo ed Eva si nasconde per la paura dietro ad Adamo. Ma chi è il corruttore in questo quadro di Michelangelo? Innanzitutto abbiamo appurato che Michelangelo individua una corresponsabilità nel peccato originale, qui non c'è più Eva corruttrice e Adamo corrotto. Sono ambedue colpevoli di una tentazione che fa il serpente, ma il paradosso di Michelangelo è che il serpente ha lo stesso viso angelico dell'angelo della corruzione. Per cui parrebbe che Michelangelo voglia assolvere dal peccato originale il serpente e voglia attribuire tutta la responsabilità a Eva e a Adamo. Quindi da quest'analisi proprio, prendendo i concetti dell'analisi etimologica e prendendo i concetti presi, trascritti nella Genesi, noi vediamo innanzitutto che la corruzione, il corrompere com, la troviamo nei tre soggetti, ovvero nei due soggetti, al di là del linguaggio di Michelangelo. Nel peccato originale si rompe una legge, si rompe sostanzialmente la legge del divieto imposto all'uomo dal creatore di mangiare il frutto prebito. Nella corruzione il corruptus si ha perché l'uomo abusa della propria libertà e disobbedisce al comandamento di Dio. La corruzione come avidità e desiderio la troviamo nella volontà del diritto di decidere da sé ciò che è male e ciò che è bene. La corruzione è un cedimento alla bramosia e nella Genesi si scrive infatti che l'uomo sedotto dal diavolo è voluto diventare come Dio ma senza Dio e andeponendosi a Dio non secondo Dio. Quindi la bramosia dell'uomo è proprio, la ritroviamo in queste parole della Genesi. Inoltre il tradimento egoista che abbiamo visto nella etimologia la troviamo nel fatto che l'uomo che era stato creato sul presupposto dell'immagine e somiglianza con il creatore, sul presupposto della sua amicizia tradisce l'amicizia e rinnega, corruzione nell'essere umano della corruttibilità fisica e della morte. Questo concetto viene espresso anche da San Paolo Apostolo nelle lettere ai romani dove appunto si dice che il peccato originale ha procurato, provocato una umanità profondamente lacerata sin dalle origini e quindi una sorta di corruzione. Quindi già nella Genesi, nella Bibbia, in questi scritti troviamo proprio una a debito di causa, nel peccato originale, la causa della corruzione. Qual è il simbolo della corruzione? Il simbolo della corruzione è il dono, cioè il do ut des, io ti faccio dono di una utilità finché tu mi possa essere d'aiuto nell'esercizio di una pubblica funzione. Il dono, se noi andiamo a fare l'indagine storica, lo troviamo nel Vecchio Testamento tradotto in greco, doron, il dono legato alla corruzione. Anche nel cristianesimo c'è il concetto di reciprocità, però guardate che nel Vecchio Testamento il dono non è accettato, è scritto Dio non guarda in vaccia a nessuno e non accetta d'oro. Invece nella cappella alla nascita di Gesù Cristo vengono accettati i doni dei re magi. Cominciando a fare questa analisi storica, ovviamente dovrò saltare qualcosa perché abbiamo perso del tempo, partiamo dal 3300. Il 3300 è indicato convenzionalmente come l'anno in cui viene inventata la scrittura e quindi si passa dalla pre-storia alla storia. La scrittura viene inventata ad Uruk, Uruk è una città dell'allora Mesopotamia, vicina all'Iraq, dove c'erano i popoli assiri, sumeri, babilonesi. In questa società primordiale esisteva il principio di reciprocità, cioè il dono e la prestazione illecita erano considerati leciti, non solo, ma la corruzione era vista come un fenomeno giusto, anzi era anomala la non reciprocità. Le schiave come dono venivano offerte agli ufficiali di corte e i giudici che erano destinatari dei doni erano i governanti di queste comunità, anche gli dèi erano destinatari dei doni. Quando nel XIX-XVII secolo a.C. Hammurabi, il sesto re di Babilonia, scrive il codice di Hammurabi, recepisce la legge della reciprocità, sostenendo che lo scambio dono-favore è lecito e la corruzione non è un reato, per cui tutti dovevano donare, ma c'erano dei soggetti che non lo potevano fare. Allora nel codice di Hammurabi era previsto un esimente per i poveri, per gli orfani e per le vedove di non donare, ma se questi facevano per modo di dire i furbi erano condannati a delle frustrate, però per dare legittimazione alla reciprocità nel codice era scritto che gli dèi sono grati ai potenti se ovviamente hanno gesti di clemenza nei confronti dei poveri, degli orfani e delle vedove. Con la società greca, siamo intorno al 700 al 300 a.C., la società greca, la società ellenica era caratterizzata più che altro dalla integrità, però gli dèi erano visti come dei modelli di integrità, ma con qualche difettuccio, qualche vicio tipicamente umano. I filosofi Socrate, Platone e Aristotele che auspicavano un governo dei filosofi, in un certo senso andavano a ritenere la corruzione come un fatto naturale, giustificando il despota che nel proprio interesse sfruttava il potere proprio perché doveva perseguire il proprio interesse. Quando Alessandro Magno va a conquistare i paesi dell'Oriente c'è una commistione tra la cultura ellenica che era più integra e la cultura d'Oriente che era più caratterizzata dal vicio e dal lusso. Esempi tipici di corruzione nella società greca sono Pericle, l'incorruttibile che fu sospettato di aver lucrato sui lavori pubblici per la costruzione del Partenone e sempre sui lavori di costruzione del Partenone fu sospettato, anzi sottoposto a giudizio, lo scultore incaricato da Pericle, Fidia, il quale fu condannato per essersi appropriato di parte del loro destinato alla statua di Atena. Demostrane che era stato in pratica il difensore dell'indipendenza di Atene da Filippo II il Macedone e da Alessandro Magno, alla fine fu accusato di essere implicato nel cosiddetto affare Alpano dove in pratica scomparve la metà del patrimonio sottratta ad Alessandro Magno dal suo tesoriere. Roma veniva definita con un acronimo Radix Omnium Malorum Avarizia, l'avarizia era l'opposto della reciprocità, quindi si condannava, si schernivano i romani perché non erano disponibili a dare. Ci sono stati ovviamente anche esempi di dignità e di dovere e di virtù, basti pensare a Tito Maglio Torquato che fece giustiziare il figlio accusato di concussione e non andò neanche al funerale, oppure Marco Attilio Regolo che abbiamo studiato in storia che fu uccisa, rinchiuso in una botte piena di chiodi fatta rotolare per un pendio, ma diciamo che al di là di episodi un po' scuri come il Ratto delle Sabine e la Gens Fabia, con la caduta di Cartagena si diffonde a Roma la corruzione, la corruzione va a investire essenzialmente due settori, il settore dei legislatori, il Senato e i giudici, però la corruzione viene vista come un atto illegittimo, ma nello stesso tempo anche etico, perché redimere per esempio è un reato che consiste nel pagare i giudici per evitare la pena, ambitus è la corruzione in sede elettorale, lo stesso Cicerone si fa promotore di una legge per disciplinare gli atti leciti e illeciti nella campagna elettorale, per quello che riguarda le tangenti al giudice era reato dare, offrire al giudice se adottava una sentenza contraria all'evidenza, ma non era reato se quella sentenza, benché indotta, fosse in un certo senso giustificabile dalla conformità alla legge, per questa ragione anche l'influenza sui giudici era considerato un atto lecito, ci sono stati poi vari tentativi, mi dispiace dover correre, ma purtroppo il tempo è tiranno, Giulio Cesaro è stato sospettato di essersi procurato illecitamente grandi guadagni, Brecht scriveva per esempio che i governatori di Giulio Cesaro avevano i vestiti fatti solo di tasche, anche Seneca fu sospettato, lo stesso Seneca a sua volta avanzò delle illazioni su Catone e il Censore, altre insinuazioni furono fatte anche su Sallustio, la corruzione quindi prende piede a Roma e trova un suo contenimento con la diffusione del cristianesimo, in Francia la corruzione è legata ai nomi di Richelieu e Mazzarino per l'uso smisurato del potere per accumulare ricchezza, ma che furono sottoposti dal re Sole e da Luigi XIV ad un'indagine da parte della Corte di Giustizia. Nicola Fouquet in Francia era un grande corrotto che si era arricchito al punto tale che aveva solleticato la gelosia del re Luigi XIV che lo fece condannare alla prigione perpetua in una torre. In Inghilterra c'è stato un governatore, un personaggio che ha governato l'Inghilterra dal 1721 al 1742, Robert Walpole, il quale nonostante si fosse procurato illecitamente in genti somme di denaro, nonostante i suoi avversari politici lo misero sotto processo, alla fine riuscì a uscire pulito perché non furono scoperte illegittimità. Churchill diceva però nel periodo in cui aveva governato il Regno Unito che tutto sommato un minimo di corruzione serve da benefico olio lubrificante alla società. Nell'ambito della psicologia sociale e della sociologia dobbiamo fare un accenno necessariamente alla teoria delle finestre rotte. Che cos'è questa teoria? Questa teoria risente molto, una teoria che si è sviluppata in America nel 1982 e risente moltissimo della teoria della psicologia sociale, dell'influenza sociale, cioè l'influenza sociale abbiamo visto è quella pressione che il gruppo dà all'individuo esercitando un condizionamento per quello che riguarda le percezioni, le opinioni e gli atteggiamenti. La teoria delle finestre rotte fu come dire elaborata da due criminologi del Manhattan Institute, i quali alla fine furono i consulenti di Giuliani, della sindacatura Giuliani, che dicevano Wilson e Kelling. Dicevano sostanzialmente che la criminalità è l'inevitabile risultato del degrado e del disordine, in pratica dicevano ipotizziamo un immobile con delle finestre rotte, se quelle finestre non vengono subito riparate, i vandali ne romperanno altre, occuperanno l'immobile, cominceranno a imbrattare i muri, trasferanno sporcizia sui marci a piedi, quindi di fatto creeranno un senso di insicurezza come se quel quartiere fosse stato abbandonato dall'autorità e questo porterà i cittadini ad allontanarsi dal quartiere, quindi sostanzialmente un condizionamento dell'ambiente sul cittadino. In pratica la teoria delle finestre rotte, proprio partendo dal degrado ambientale, riteneva che il degrado ambientale è la causa delle piccole trasgressioni, della incuria e del disinteresse dell'autorità, della inciviltà che prenderebbe possesso del quartiere dando adito a fenomeni di emulazione e ingigandendo la percezione di insicurezza. Per questo dicevano Kelling e Wilson bisogna intervenire sulle piccole violazioni, intervenire come? Evitando l'aumento della criminalità, riducendo la percezione dell'insicurezza e scongiurando l'intenzione dei residenti ad abbandonare quel luogo, perché se c'è sicurezza quel luogo è vivibile. La teoria delle finestre rotte si declinava secondo una serie di teorie come la diffusione del disordine ambientale che contribuisce al disordine sociale, l'ambiente degradato che degrade il comportamento, il degrado e il disinteresse generale che rompono i normali codici di comportamento, la teoria del potere di contesto e cioè il comportamento che è in funzione del contesto sociale, fino ad arrivare alle ipotesi estreme della politica reganiana della zero tolerance, cioè della teoria dello spazio difendibile. Ma la teoria delle finestre rotte noi la prendiamo anche in un'ottica positiva dicendo che ove venga applicata l'incontrario, se il cattivo esempio influenza i cittadini di quell'ambiente, il buon esempio può aiutare a diffondere la civiltà, rispettare le regole e questa teoria è la teoria che è alla base della legge 190, perché la legge 190 mira proprio a prevenire i piccoli episodi che riguardano la cosiddetta illegalità, come dicevamo all'inizio quando avevamo ipotizzato un anticipo, una preposizione del termine illegalità rispetto a quello di repressione. Quindi la teoria delle finestre rotte sostanzialmente diceva che occorre prevenire i fenomeni criminali, controllare il territorio, reprimere reati minori, bisogna lottare sull'illegalità, bisogna reprimere qualsiasi comportamento che possa durbare la convivenza. Quindi applicandola al contrario, in pratica l'influenza dell'ambiente, se l'influenza dell'ambiente negativo induce l'individuo a comportamenti negativi, l'influenza positiva comporta che l'individuo possa porre in essere atteggiamenti positivi, per cui un ambiente ben curato influisce sul comportamento e porta la comunità ad adeguarsi all'ordine che lo circonda. Come a dire, persone aggressive influenzano con l'aggressività i consociati, persone educate e civiche portano invece a emulare questo comportamento. Infatti la teoria delle finestre rotte si applica alla legge perché la legge 190 sostanzialmente enuncia alcuni principi. Per pretendere il rispetto delle regole è necessario creare un ambiente di diffusa percezione di osservanza della legalità e la lotta all'illegalità è la finalità principale della legge 190, non è la lotta alla corruzione perché come abbiamo visto all'inizio c'è il sistema penale che mira a reprimere la corruzione. Per evitare la diffusione dell'illegalità quindi un sistema di repressione deve essere affiancato un sistema di prevenzione e ci sono proprio degli istituti oltre alla corte dei conti anche l'ANAC che hanno il compito proprio di essere deputate a questo fenomeno. Quindi non essendo una legge penale la legge 190 deve operare in via preventiva sulle piccole violazioni per evitare che l'illegalità costituisca appunto un contesto idoneo al diffondersi della repressione. Per quanto riguarda i presupposti giuridici mi limito a citare la massima ubi societas ubi us che si declina nel ubi dove c'è l'uomo c'è la società, dove c'è la società lì c'è il diritto, dove c'è l'uomo c'è il diritto, che significa che in pratica una convivenza sociale deve essere disciplinata da un corpo di leggi che devono regolamentare i rapporti tra i cittadini e queste leggi devono essere applicate nello Stato di diritto anche dallo stesso Stato, c'è lo Stato sulla base di previsioni costituzionali si deve sottomettere alle leggi della comunità perché sono le leggi della comunità che garantiscono la pacifica convivenza, per questo l'eventuale lesione o violazione anche dei comportamenti di piccolo conto devono essere repressi nel senso o meglio bisogna procedere in termini di prevenzione proprio perché il bene comune è proprio quello della pacifica convivenza. Perché nasce la 190? La 190 nasce innanzitutto perché a livello europeo è stata approvata la convenzione dell'ONU, la convenzione penale sulla corruzione da parte del Consiglio d'Europa e abbiamo avuto notevoli sollecitazioni da parte degli organismi che operano a livello nazionale nel settore dell'anticorruzione, ma quali sono questi organismi? Questi organismi sono il Fondo Monetario Internazionale, il Greco presso il Consiglio d'Europa, il Group of States Against Corruption, l'Ocse che nasce come OECD, è un'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'ONU che è l'organizzazione delle Nazioni Unite, Transparency International e World Bank. La maggior parte di questi istituti nascono all'indomani della seconda guerra mondiale con finalità prettamente di salvaguardia economica, teniamo presente che siamo all'indomani della seconda guerra mondiale, c'è il piano Marshall, ci sono politiche di prevenzione, politiche di disvalutazione che gli stati pongono in essa e che minano un mercato internazionale proprio fondato secondo gli auspici degli incitori della guerra sul libero scambio, per cui questi istituti inizialmente nascono con una mission tipicamente economica, ma con il passare del tempo diventano degli istituti che si caratterizzano con la lotta alla corruzione. Il greco in particolare ha elaborato tutta una serie di disposizioni a livello europeo nella lotta contro la corruzione, ha elaborato, il Consiglio d'Europa ha approvato la Convenzione Penale sulla Corruzione, il protocollo addizionale alla Convenzione Penale sulla Corruzione che ha integrato la Convenzione relativamente agli arbitri e ai giurati, la Convenzione Civile sulla Corruzione, il Wister Blower lo troviamo qui nella Convenzione Civile sulla Corruzione, la raccomandazione sui codici di comportamento dei pubblici impiegati, il codice di comportamento nazionale lo troviamo qui, la fonte la troviamo qui, la raccomandazione sull'adozione di regole comuni contro la corruzione e il finanziamento dei partiti politici è del 2003, lo scandalo che noi abbiamo vissuto, lo scandalo dei consigli regionali la troviamo qui, in questa raccomandazione si chiamano gli Stati ad approvare legge sul controllo della contabilità dei partiti e delle loro articolazioni, a procedere a disciplinare le donazioni ai partiti fissando dei limiti oltre i quali le donazioni devono essere pubbliche e trasparenti, poi ci sono i 20 principi guida la lotta alla corruzione che è un decalogo, quindi sulla base di questo encomiabile programma contro la corruzione gli Stati sono stati costretti e noi come Italia anche con ritardo nel 2012 abbiamo approvato la legge 190. L'Ocse invece ha attuato, ha attuato, ha approvato una serie di raccomandazioni dal 1995 in poi, di cui la principale è la convenzione, la anti-bribery convention che è stata approvata il 17-12-97. Sentite un po' quello che succedeva in Italia prima dell'approvazione di questa convenzione, l'ho scoperto anche io perché veramente fa una certa impressione sapere queste cose, prima del 1995 gli Stati membri potevano riconoscere esplicitamente all'impresa il diritto di pagare tangenti definite con un eufemismo commissioni segrete, queste commissioni segrete venivano equiparate agli oneri professionali e gli Stati ne ammettevano la deducibilità fiscale, immaginate la gravità di questo modus operandi degli Stati europei, cioè riconosce la deducibilità fiscale delle tangenti, significava riconoscere la legalizzazione delle tangenti, per questa ragione che l'Ocse si è prefissata l'eliminazione della deducibilità fiscale delle tangenti e il riconoscimento dell'illegalità delle tangenti pagate a pubblici ufficiali esteri, perché paradossalmente quando abbiamo all'inizio della relazione parlato del pubblico ufficiale e cioè del soggetto che può essere imputato di corruzione o di corruzione, quei reati non si applicavano ai pubblici ufficiali stranieri perché non esiste nei paesi stranieri la figura del pubblico ufficiale, con la convenzione anticorruzione dell'Ocse che gli Stati hanno recepito, oggi anche in Italia noi siamo in grado di applicare le sanzioni della corruzione e della concussione anche agli Stati, agli operatori e ai funzionari pubblici che operano all'esterno, ma non solo con l'anti-bribery convention, oltre il corrompere funzionari stranieri è stato considerato non solo un reato per le persone fisiche, ma è stato considerato anche una responsabilità addirittura penale delle persone giuridiche, voi sapete meglio di me che la responsabilità penale in base alla Costituzione del Codice Penale è solamente personale. Quindi l'anti-bribery convention è un atto per effetto dell'anti-bribery convention, un atto di corruzione è un reato perseguibile in Italia qualunque sia la cittadinanza del funzionario corrotto e l'organizzazione esterale a cui quel funzionario appartiene. Andiamo a Transparency, Transparency è un'associazione non governativa che ha fatto della lotta alla corruzione la propria mission. cosa fa Transparency? Transparency ha elaborato alcuni indici di percezione della corruzione proprio per cercare di poter, ripeto, conoscere il fenomeno corruttivo. I tre indici sono il CPI, il Corruption Perception Index, l'indice di percezione della corruzione, che è l'indice che viene quantificato a seguito di questionari sottoposti agli esperti del settore. Poi ha elaborato se non sbaglio nel 1993 il barometro globale di percezione della corruzione, che è un sondaggio di opinione rivolto ai cittadini e poi il Bribe Piers Index, il BPI, è l'indice di propensione alla corruzione che viene somministrato ai dirigenti senior delle aziende e ha la finalità di sondare la probabilità che le aziende provenienti dai paesi stranieri paghino tangenti quando operano nel paese dell'intervistato. Nonostante questi sondaggi si rivolgano ad esperti o a semplici cittadini, si è potuto verificare una corrispondenza dei risultati di queste indagini, non solo, ma leggo che il barometro della corruzione è stato anche pensato per integrare sia il sondaggio degli esperti, il CPI, sia il sondaggio del BPI dei dirigenti aziendali. È stato nel 2001, anche da Transparenz partecipando a un progetto europeo, posto in essere un nuovo sondaggio, il cosiddetto NIS, il sistema di integrità nazionale. Qual era la finalità del NIS? Era quello di una volta individuato 13 diversi pilastri della lotta alla corruzione non solo a livello europeo, ma anche a livello nazionale, si era cercato di valutare i termini di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto alla corruzione da parte di questi 13 pilastri, potere legislativo, esecutivo, giustizia eccetera. La Corte dei Conti è figurata insieme alla magistratura ai primi posti. Andiamo all'Italia, l'indagine CPI 2014 di Transparenz ha collocato per l'ennesimo anno l'Italia al 69esimo posto su 175 paesi monitorati, con un punteggio di 43 che vede al primo posto a coppunti 92 la Danimarca e all'ultimo posto a coppunti 8 la Somalia e la Corea del Nord. L'Italia è l'ultima tra i paesi europei a 32 stati. Il punteggio rapportato a 10 è 3,9 su 10. La posizione dell'Italia è uguale a quella dell'anno scorso e guadagna a qualche punto rispetto al 2012, forse per effetto dell'entrata in vigore della legge anticorruzione. Questa è la copertina dell'indagine di Transparenzy, molti di voi avranno visto l'esito dell'indagine dei 175 paesi e si vede proprio che ai primi posti ci sono i paesi più integri, la Danimarca, la Nuova Zelanda, la Finlandia, la Svezia. Noi in calce ovviamente oltre alla Somalia e alla Corea del Nord abbiamo il Sudan e l'Afghanistan. Allora la corruzione in Italia, andiamo ad analizzare ciò 15 minuti, speriamo di riuscire, la corruzione in Italia, quali sono anche le regioni e le province più corrotte? Sono dati non ufficiali e non hanno valore scientifico. È un'indagine che è stata fatta sulla base delle notizie pubblicate dai media e allora da queste notizie emerge che le regioni italiane più corrotte sono la Lombardia, a cui segue Lazio e la Campania e ancora a seguire la Toscana e il Veneto. Io che ho la fortuna di vivere nelle Marche vedo con notevole combiacimento, anche con riferimento a quello che è il nostro lavoro, di poter lavorare in un ambiente caratterizzato da molta legalità nelle amministrazioni pubbliche. Per quello che riguarda le province, le province più corrotte sono ovviamente la provincia di Roma, quella di Milano, quella di Venezia e quella di Napoli. Ovviamente abbiamo detto che non c'è un valore scientifico, ma si deduce dai dati dei mass media. Questa slide ero indeciso se metterla, però siccome questo è un corso che mira a diffondere l'integrità e a stimolare quando operano nell'Ende perché come bravi funzionari possano dare il proprio contributo per una ricrescita, questo è un sondaggio che non è scientifico, però l'ho trovato su un blog della Danimarca. Che cosa pensano di noi gli altri paesi? Ebbene è una cosa che ci porta l'amaro in bocca perché la risposta è data da inglesi, francesi, tedeschi, spagnoli, italiani e greci. E allora vediamo qual è il popolo più scansafatiche. Noi siamo insieme i greci e i romeni. Qual è il popolo più laborioso? Sono i tedeschi. C'è una unanimità. Qual è il paese meno corrotto? La Germania. Quando andiamo a vedere qual è il paese più corrotto, noi siamo da parte degli inglesi, dei francesi, dei tedeschi e degli stessi italiani, siamo il paese più corrotto. Gli spagnoli ci dividono con la Spagna, la Grecia invece si salva perché ritiene che il proprio paese sia il più corrotto. Vediamo la corruzione in Italia. Quali sono le caratteristiche della corruzione in Italia? Perché il fenomeno corruttivo che è così diffuso non è denunciato? Dobbiamo andare a indici di percezione e non a dati reali. Ma perché? Perché c'è un rapporto inversamente proporzionale proprio tra la corruzione praticata che si è diffusa e quella che è denunciata. Ma perché questo? Perché la corruzione, si dice in gergo, è un reato a cifra nera. I reati a cifra nera sono quei reati che non vengono denunciati. Infatti, mentre un borseggio, uno scippo, un furto d'appartamento viene denunciato, si può dire se non al 100%, al 90%, la corruzione è un reato prossimo allo zero perché nessuno autonomamente la denuncia. Infatti, perché non viene denunciato? Perché sono le caratteristiche della corruzione. La non viene, come dire, il patto sancito davanti a testimoni. C'è un convergente interesse del corruttore, del corrotto e dell'intermediario. Non ho avuto il tempo, ma mi sarebbe piaciuto accennare alla teoria dei giochi in campo economico, al dilemma del prigioniero, perché il convergente interesse sta a dimostrare proprio che questo è un gioco cooperativo, nel senso che le parti convengono sulla soluzione, sul comportamento da adottare. Non solo le denunce non sono autonome, ma sono riflessi o dedotte da altri procedimenti e le autorità preposte alla corruzione e alla repressione di questo fenomeno non sempre ne sanno. Il reato di corruzione si è trasformato da reato monodirezionale a un rapporto sinallagmatico tra corrotto e corruttore, il dot des, la reciprocità che abbiamo visto nei paesi della Mesopotamia e si è trasformato in un reato circolare. Sono molti i soggetti che entrano in campo e molti di questi non conoscono chi sarà il destinatario, cioè il funzionario corrotto e proprio queste caratteristiche lo rendono un fenomeno sommerso in quanto c'è una scarsa propensione alla denuncia oltre a quel patto scellerato che induce le due parti, il corruttore e il corrotto, a occultare il fenomeno. La corruzione ha avuto una metamorfosi quindi non solo per quanto riguarda i soggetti, ma anche per il contenuto del patto corruttivo. Prima il dot des portava, abbiamo letto, o alla produzione di un atto dovuto o alla omissione di un atto dovuto. Qui nel patto corruttivo il pubblico agente corrotto non si limita all'adozione dell'atto, ma assume un'altra veste, quella di influenzare il pubblico agente deputato all'adozione o all'omissione di quell'atto e quindi assicura la protezione al corruttore anche nei confronti quando si interfaccia con la pubblica amministrazione. Ecco perché si ribadisce la terza volta, lo dirò altre volte, che la legge 190, perché questa è la mission anche di questo progetto di Formez, è quello di creare un sistema integrato che affianchi alle misure repressive, le misure di carattere extrapenale, prevenzione amministrativa. Ritornando al nostro discorso, vediamo un po' un'analisi sui costi della corruzione. La corruzione ha costi diretti e indiretti, incide sulla crescita del paese, altera la libera concorrenza, concentra la ricchezza in capo a poche persone, a quelle che si fanno abbindolare dal mercato delle tangenti. Trasparency ha stimato che un posto in classifica, la perdita di un posto equivale alla perdita del 16% degli investimenti all'estero. Il greco nel peer review, nella valutazione dell'Italia, addirittura ha definito l'Italia come un paese pervaso da un fenomeno pervasivo e sistemico. I costi economici diretti sono stati stimati dalla Corte dei Conti in 60 miliardi e nel 40% di incremento del costo delle opere pubbliche. Orbene, io voglio fare una considerazione che ho tratto da una rivista. Questi 60 miliardi non è detto che siano veri, nascono da un calcolo relativo a una stima fatta da un economista americano, secondo cui la corruzione incide nella misura del 4% del PIL mondiale. Ma ipotizziamo che fossero veri questi 60 miliardi. Sconviggere la corruzione, sapete che significa? Significa ridurre in pratica annualmente il costo occulto di 60 miliardi, ma sapete che significa ridurre e alzerare il costo di 60 miliardi, 50 miliardi, quelli che sono? L'Italia ha un debito pubblico di 2.085 miliardi. Sapete che significa? Che alzerando il costo della corruzione, noi in 34 anni, ammesso che siano 60 miliardi, alzereremmo il debito pubblico. Ecco per cui la necessità di fare una lotta contro la corruzione. I costi della corruzione sono anche indiretti, sono i ritardi del funzionamento degli uffici, il tattivo funzionamento delle strutture pubbliche, l'inadeguatezza o l'inutilità di alcune opere pubbliche, spesso l'allocazione di risorse non ponderate, la perdita di competitività del nostro paese. Come costi di tipo sistemico andiamo sui valori della nostra democrazia, del nostro ordinamento. La corruzione incide sull'uguaglianza, sulla concorrenza, incide sulla trasparenza, va a incidere sulla fiducia che il cittadino ha nell'istituzione e nella legalità e inversalità che deve caratterizzare l'azione amministrativa. Nel breve periodo, come diceva Churchill, però la corruzione ha una finalità. Ci siamo passati anche noi all'indomani della seconda guerra mondiale, quando appunto le regole non sono state pienamente rispettate, ma nel lungo periodo c'è una inversa proporzione tra diffusione della corruzione e crescita economica. Vado un po' avanti e dico che gli effetti della corruzione in Italia portano gli imprenditori a trasferire i costi sulla pubblica amministrazione, ma in periodi di austerità, di magra, di crisi economica, quando lo Stato in un certo senso può in essere politiche di repressione o quando il cittadino è frustrato dalla situazione di crisi economica e pretende interventi invasivi da parte dello Stato, in questo caso il corruttore ha più interesse a passare come concurso, come qualcuno che ha subito la corruzione. La trasparenza aveva in una indagine classificato quattro macro periodi storici, la corruzione endemica degli anni 50, la corruzione diffusa negli anni 60, la corruzione generalizzata negli anni 70, la corruzione sistemica a cui è nato Gianpaulino il Presidente della Corte dei Conti e la corruzione finanziaria che riguardava le grandi transazioni finanziarie. I grandi scandali corruttivi della nostra storia italiana sono stati lo scandalo della Banca Romana nel 1889, quando non esisteva la Banca d'Italia ma esistevano sei banche deputate alla produzione di carta moneta e qui la Banca Romana nel 1889 duplicò la carta moneta e lo stesso Giolitti fu assolto nell'ambito di quel processo. Negli anni 70 lo scandalo dei petroli, le tangenti per porre in essere una politica contrata dai centrali nucleari in un periodo di austerità, anche qui si parlava dei 3.600 miliardi pari al 5% degli introiti delle ditte. Poi lo scandalo Lockheed che costrinse Leone a dimettersi dopo 20 anni i radicali hanno chiesto scusa. Nel 1992 Mani Pulite Tangendopoli, nel 1993 Maxi Tangente Enimon finalizzato ad ottenere lo scorco di Eni e Montedison. Le spiegazioni del fenomeno, l'approccio economico abbiamo detto un calcolo razionale ma la corruzione non si diffonde se c'è un approccio etico, se c'è una forte stabilità dei valori. Ritorniamo sempre a questo concetto che è il light motive della relazione, in pratica un sistema di repressione e integrazione. Nel rapporto tra corruzione ed economia i paesi più corrotti sono i più poveri. L'Italia si trova come fanalino di coda tra i paesi più corrotti e con minor competitività, perché la corruzione distrugge le potenzialità economiche di un sistema e l'Italia è caratterizzata anche da una iperregolamentazione che in pratica rendono la corruzione il sistema per poter superare gli ostacoli burocratici. Abbiamo parlato dei 60 miliardi e del 40% del costo delle opere e circa 100-120 miliardi di Euro anni che la Corte dei Conti addebita come evasione fiscale. Che cosa bisogna fare? Bisogna potenziare e creare un collaboratore di giustizia alla pari di quello che è stato fatto nella lotta a Tancendopoli e alla mafia. Per quanto riguarda il messaggio, il messaggio è quello di creare un clima di integrità. Nel 91 fu pubblicato questo libricino che mi fu regalato quando io vinsi il concorso al segretario generale da un vescovo e mi diceva, lei diceva tu dottore adesso vai a fare il segretario di un comune più grande, leggiti questo libro. Questo libro del 91, costava mille lire mi ricordo e ce l'ho conservato tra i ricordi più cari, diceva proprio questo, educare alla legalità perché la legalità è il rispetto e la pratica delle leggi e quindi è una condizione fondamentale. L'autentica, proprio perché l'autentica legalità trova la sua motivazione radicale nella moralità dell'uomo, la condizione primaria per lo sviluppo del senso della legalità è la presenza di un vivo senso dell'etica. Vediamo già dal 91 si parla di etica legata alla legalità, non sempre si subisce una corruzione ma spesso si trova comoda la corruzione per ottenere ciò che altrimenti non si potrebbe avere. Quindi moralità e legalità che erano indicati in questo messaggio li troviamo oggi nella legge 190. Il senso della legalità è finito, non è un valore che si improvvisa, esso esige un lungo e costante processo educativo. Diceva quindi Giovanni Paolo II, non ve chi non veda l'urgenza di un grande recupero di moralità personale e sociale, cioè di legalità, urge un recupero della legalità. Da una restaurata moralità sociale a tutti i livelli deriverà un nuovo senso di responsabilità nell'agire pubblico. Abbiamo cercato e ho finito di far conoscere il fenomeno correttivo perché come dicevo all'inizio chi conosce può adottare le misure. Questo è un seminario, un progetto indirizzato principalmente alle regioni del sud. Io sono un meridionale essendo nato in Puglia e mi permetto, come dire, di suggerire, sollecitare voi che operate nella terra alla quale io appartengo di far uso del dono, della dignità che ci caratterizza. Se mi consentite un secondo, c'è un testo, una canzone di Fiorella Mannoria dell'anno scorso, 2014, Sud, nel quale è stato tradotto un brano argentino, Welvo al Sur, che era la colonna sonora di un film che si chiamava, si intitolava Sur. Questa canzone usa delle parole molto care. Torno al Sud e dice, torno al Sud come si torna sempre all'amore, porto il Sud come un destino dentro il cuore. Io cerco il Sud in ogni sguardo e in ogni colore. Amo il Sud perché? Per la sua agenda e la sua dignità. Quella dignità a cui io mi permetto, per carità non sono un docente, l'ho detto l'altra volta, sono un collega che come voi lavora a supporto delle pubbliche amministrazioni. Quella dignità che ha caratterizzato tante persone che operano nelle pubbliche istituzioni, come Cesare Merzagora, l'ex presidente del Senato che nel 1964 fece un discorso durissimo e dopo quattro anni, dopo quattro giorni si dimise perché il suo partito nel giornale ufficiale l'aveva relegato in una notizia secondaria. Merzagora scriveva proprio questo, in questo durissimo discorso, onorevoli colleghi, così non si può andare avanti e se il mondo politico italiano non ritrova rapidamente il piacere dell'onestà, tristi prospettive purtroppo si aprono per il nostro avvenire. Era una persona che in un certo senso ha visto il futuro d'Italia, ma aveva la dignità, quella stessa dignità che dobbiamo mettere in campo perché ricordo sempre che uno degli obiettivi del PNA è quello di creare il bravo funzionario, quello che sa impersonare i principi dell'immedesimazione organica nell'ente in cui opera e lavora. Vi ringrazio per avermi seguito e per questo incidente purtroppo di percorso che ci è capitato. Buongiorno a tutti.